52 video, grazie veramente di cuore, è stato un lavoro bellissimo, è stato un lavoro appassionante, è stato un lavoro faticoso, però grazie di cuore, perché se non fosse stato per i vostri feedback, gli incoraggiamenti, anche le varie istruzioni e consigli che mi avete dato, non so se sarei riuscito ad arrivare fino alla fine di quest'anno. Oggi è 25 dicembre, Natale, direi di non ammorbarci con le terapie brevi, quindi vi voglio solo far vedere un po' di dietro alle quinte di questo lungo anno, e che direi, grazie di cuore, tra una settimana ci rivediamo nel 2019, e andremo a continuare a capire come diventare dei terapeuti brevi d'eccellezza. Grazie ancora, buon Natale! La donna, qui dà la chitta, la signora Maria. La signora Maria, è quella chitta qui, ma è ancora qui, è andata via, la signora Maria. Quanto ci mette? Inoltre, inoltre, inoltre un'email. Non lo faccio tutto rappato. Ok. Questo è il video numero 12, dove ti cito una meta-analisi del 2014, forbici, carta e sasso, se pensavi che non ero capace non ci hai capito un ca... Eh? Io! Perfetto, questa è fatta a 13! È fatta a 13! Ahahahah! Non è più grammaticalmente corretta, ma ci stiamo. Il senso c'è. Il senso c'è. Signor Canistra, lei affetto da una perionchite batterica di genesi streptococcica, sarà necessario eseguire un antibiogramma per definire l'approccio della pratica migliore. Oddio, è grave? Sto morendo? Si sta registrando? Sì. Stiamo aspettando che i cani smettano di abbagliare. Ciccia, non ci buttare giù le cose. Allora, un pelle di gatta è fatta. Sì. Allora, vieni qua. Eccola qui. Questo. Chi è questa ciccia? Che non si vuole far prendere in braccio. Numero... Numero quattro della batterica, che è un elemento della relazione. Visto che stabiliii... ...per ogni specifica... Ah, ma, ma... Sempranar Cross ha visto che stabilire un obiettivo... ...e ti... Ne facciamo le due parti. Astratto, evanescente, poco concreto nelle comunicazioni... Ebbene... Ci ho stato sentito. Cazzo è uno snorking. Sembrava una notifica del terreno. E non c'ho una conclusione.